i dieci comandamenti del surf un podcast di dottor podcast e ford italia questo mi riporta al secondo comandamento del surf la seconda regola che è la comunicazione è la chiave anche nella prima regola del surf primo comandamento del surf abbiamo parlato di comunicazione interpersonale che ruolo ricopre la comunicazione nel surf sicuramente di questi tempi poi è una cosa importante perché saper comunicare innanzitutto tra surfisti è fondamentale per appunto poter accedere poter anche condividere le stesse le stesse onde però comunicare una parola grande è una parola che ha tante sfaccettature e questo momento ad esempio a me comunicare mi viene subito in mente la comunicazione via social perché viviamo in un mondo virtuale dove tanti di noi come dire vivono quasi più per il virtuale che per la realtà cioè quasi non godono più del momento reale e invece cercano di comunicare quei momenti che sono dei momenti magici perché puoi fare il surf in certe condizioni sono dei momenti che raramente secondo me negli altri sport ci si arriva cioè sono dei momenti di connessioni con la natura magari al tramonto con dei colori del cielo incredibili rosa blu infinito con queste onde lisce glassi che arrivano all'improvviso e cavalchi un'onda del genere un momento magico un momento di meditazione dove ti porta proprio la mente viaggia e comunicare questo sui social cioè mi fa ridere perde tutta la magia però adesso la comunicazione è molto in questo senso quindi lo dico anche perché io stesso sono tra virgolette costretto a comunicare in questo modo per tutta una serie di ragioni no perché comunque la visibilità che sia sia con grazie a questo tipo di comunicazione una volta esistevano i famosi surf magazine cioè la carta stampata che adesso non c'è più in tutti i settori la carta stampata sta sta diciamo soffrendo tantissimo il discorso di internet e compagnia bella però una volta era quello cioè arrivava questo surf magazine era l'uscita quando andava bene un mese una uscita al mese ed era un evento e lo assaporavi proprio pagina per pagina e lo mangiavi con gli occhi aspettavi quella quella rivista o quelle riviste perché c'era più di una addirittura estere le aspettavi con ansia e quando avevi anche la fortuna come ho avuto io la possibilità di comunque di essere dentro con la rivista grazie a una foto mentre facevo surf piuttosto un'intervista una roba era ancora più emozionante e quella era una comunicazione incredibile perché mi ricordo andavo negli spot di surf e trovavo surfisti che magari neanche conoscevo con la rivista in mano che guardavano e parlavano guarda questo 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 dove è stato andato lì a peso questo che onde che ha preso fantastico dobbiamo andiamo pure noi andiamo pure noi lì era una roba adesso invece è tutto molto più immediato tutto proprio immediato ma mi viene da dire anche disabitato perché noi parliamo sempre pensiamo spesso la comunicazione come un processo di output ho dentro qualcosa e lo butto fuori a qualcuno che non è lì presente con noi cioè i social si basano su questo no raccontarti testimoniarti un'esperienza che io ho vissuto per trasmetterti magari l'emozione però quello che tu mi stavi raccontando prima è una comunicazione con se stessi se tu stesso quando mi dici prima come fai a comunicare quella cosa lì in quel momento quando cavalchi quell'onda in quel momento della giornata sul crepuscolo neanche ci pensi a produrre un contenuto sei il tuo stesso contenuto sei cento per cento associato all'esperienza e quello che mi stai dicendo di questa regola della della comunicazione anche uno sport che ti facilita un entrata a contatto con te stesso con la tua parte intima che spesso nell'esposizione comunicativa un po si offusca assolutamente sì e questo argomento mi fa pensare anche proprio immediatamente ad esempio quando ho preso probabilmente l'onda più importante della mia vita un'onda di 18 metri mai preso ma neanche visto e mi sono ritrovato incredibilmente sul picco di quest'onda e comincio a scenderla ed è una cosa una roba che mi rimarrà indelebilmente nel nel mio io perché non riuscirò mai in realtà a descrivere quella sensazione eppure è stata l'onda che mi ha reso tra virgolette famose quando ho fatto questo record dove ancora in italia non si sa non si conosceva nemmeno tanto il mondo del big wave surfing non si conosceva sono stato un po un apripista in questo senso e mi fa piacere e ricorderò per sempre queste sensazioni interne che ho avuto dove veramente come se avessi esplorato il mio io interiore cosa come se non l'avessi mai fatto in prima non avevo mai avuto un'occasione ma talmente probabilmente era la paura la concentrazione mentre scendeva un mostro da 18 metri dove io realmente ho pensato oggi o la va o la spacca nel senso 18 metri cioè adesso non so quant'è casa vostra che state ascoltando il podcast in questo momento però immaginate casa vostra sei piani sei piani sei piani da sei piani un condominio da sei piani e guardate giù fa paura a 50 chilometri orari viaggia quello e quando poi collassa nel senso quando raggiunge il punto massimo dell'energia quindi rompe l'onda si rompe lì lì poi l'onda veramente ti scaraventa giù io viaggiavo a 60 chilometri all'ora più o meno 60 70 su una tavola molto piccola dove l'onda sembra tra virgolette sembra una discesa facile ma non è così perché in questa in questa parete d'onda ci sono altre tante altre piccole onde sono dei bozzi che si formano quindi molto difficile come discesa perché si salta parecchio sembra molto snowboard è molto simile perché è un manto irregolare noi lo pensiamo come un filo no no tutto irregolare tra l'altro per riuscire ad immedesimarsi in questa in questa sensazione andare a 60 in macchina dai easy l'abbiamo fatto tutti tu andavi in moto no mi raccontavi in una presente conversazione già andare a 60 in moto è un altro sport andare a 60 in bici in alcune discese è un'altra percezione io non riesco ad immaginare questa sensazione di iper esposizione del corpo a quel montante di velocità cacchio succede nella testa in quel momento immagina andare in skateboard a 60 all'ora dovrebbe essere quello no perché sei letteralmente su su una tavoletta quindi se non hai la stabilità non hai la stabilità che puoi avere su una bicicletta o tantomeno su una moto o addirittura su una macchina però il discorso per ritornare al discorso della comunicazione no ti facevo con l'esempio perché poi che è successo cavalcando quest'onda incredibilmente è uscita fuori questa news dove qui da nazare è partita un italiano ha surfato un'onda da 60 piedi cioè 18 metri questa news si è propagata ed è arrivata in italia tanto io arrivai in aeroporto e c'era il tg5 che mi aspettava e lì io completamente non sapevo nulla cioè totalmente inaspettata come cosa quando arrivai la giornalista è venuta verso me io mi sono girato indietro pensando che ci fosse un calciatore un calciatore perché di solito quelle interviste le fanno i calciatori e mi sono girato ma chi c'è dietro a me chi è questo quello mi fa no no abbiamo saputo che si è fatto un'onda a 18 metri e lì è come dire comunicare no in quel momento all'improvviso quel tutto quella roba che io non avevo neanche dormito la notte perché dopo che hai surf una roba del genere a parte che ti senti ti avvicini a dio proprio quindi veramente qui infatti c'è anche una frangia di surfers soprattutto in brasilia molto sud america si avvicinano molto sono anche molto religiosi si avvicinano anche molto a dio perché queste queste sensazioni queste cose queste botte di adrenalina ti fanno ti fanno avvicinare a qualcosa o ti senti onnipotente o ti avvicini a qualcosa che può essere riconducito ti senti infinitamente piccolo o infinitamente grande cioè cant che ne parla nel suo capolavoro la critica del giudizio dice quando siamo di fronte a che ne so il gran canyon lui non parlava di gran canyon però parlo del gran canyon perché è una di quelle cose quando le sperimenti dici cavolo quanto è grande mentre la gioconda chiunque la veda il louvre dice magari quel franco bollo lì perché l'aspetto è più grande perché la sua reputazione a livello di sottomodalità te la fa sembrare immensa la vedi dice ma che è così piccolina ecco una di quelle cose che invece non ti lascia indifferente il gran canyon ecco immagino un'onda il gran canyon un panorama in cima alle dolomiti di fronte o che ne so alla forza della natura quando si manifesta in modo dirompente parlo di un terremoto in quel momento o tu ti senti parte di un tutto e ti avvicini al divino o ti senti infinitamente piccolo o forse il paradosso deriva da provi entrambe le sensazioni esatto esatto quello che è successo a me era questo io mi sono sentito infinitamente piccolo e assolutamente come dire se la natura avesse voluto mi avrebbe potuto schiacciare come una formica e però nello stesso tempo stavo giocando con qualcosa di più grande di me ero sul filo di rasoio e quindi c'era quel senso di eccitazione di come dire di di adrenalina così così alta mista mista con la paura presto facendo una roba insomma fuori dal comune e questo sicuramente mi ha mi ha fatto camminare da terra per un mese dopo ricordo io per circa un mese ho avuto veramente una una carica interiore che camminava non so due metri da terra ma non in modo spocchioso però non in modo spocchioso lo percepisco questo proprio orgoglioso di me stesso quando parlavi di comunicazione e di comunicazione interna in quell'istante che di solito è un momento no nella nostra testa si fotografa un istante preciso cosa dici a te stesso cioè la tua comunicazione interna al di là dell'aspetto strettamente motivo cosa ti dici in quel momento beh in quel momento mi sono detto che poi in questo è una cosa un tasto che poi ti spiegherò più avanti però mi sono detto ok ci sei ecco fatto ovvero sei veramente dentro stai affrontando un pericolo vero non puoi sbagliare e devi assolutamente essere concentrato in quell'istante tutto si è rallentato l'onda l'ho vista come un magna plasma gigante che si muoveva però al rallentatore e io sentivo il minimo movimento del mio corpo lo riuscivo a accattare ma proprio che ti posso dire la spalla che si girava di un centimetro il movimento del bacino qualsiasi cosa ero talmente concentrato che controllavo tutto del mio corpo una sensazione che non ho quasi mai più riprovato cioè penso che forse una droga ti può far sentire una roba così e quindi avevo un controllo non saprei dirti in percentuale però probabilmente molto vicino a 70 80 90 per cento non lo so ma una roba che non ho mai più perché ero veramente in una situazione dove il mio cervello diceva qui se sbagli muori quindi devi essere assolutamente concentrato non potevo sbagliare nota come in questi contesti di fronte ad un grande pericolo di una persona ricordiamo sempre perfettamente allenata che si è distante non ti sia spazio per le stronzate e quando dici il tempo si rallenta e spazio e tempo diventano una cosa sola e vivi quello che gli orientali chiamano il famoso qui ed ora no tutti parlano del qui ed ora lì sei nel qui ed ora e il tuo punto focale è quello che descrivono in tanti che hanno vissuto questa preziosa e rarissima sensazione è proprio quanto sia fisico il tuo punto focale cioè ti concentri su il corpo il respiro il muscolo il gesto cioè in quel momento non pensi ah dopo sto video qua lo posto su instagram ma no ma lì a quel punto non staremo qui io a te a parlarne in quel momento sei presente ed ecco perché provi quella che tu giustamente hai descritto come un'esperienza mistica di ascesi la mia domanda per te è un po sibillina dopo che hai provato una sensazione del genere che perdura per un mese ti senti un po orfano di quella sensazione avresti voglia di riprovarla pensi di poterla riprovare un giorno è motivo per cui continuo a fare questo alla fine tutti noi surfisti abbiamo questa un po questa cosa innata dentro di ricercare quest'onda perfetta di ritrovare un po quelle sensazioni facciamo proprio in questo senso perché veramente una droga è una droga buona nel senso che non fa male in teoria credo no è una qualcosa che ti porta sempre che ne vuoi sempre di più vuoi riprovare quella sensazione vuoi anche superare quel limite perché poi comunque ti sei quando ti rendi conto di aver fatto una roba che non pensavi di poter fare ti scatta pure la molla e dice ok ma se sono riuscito a fare questo che neanche ci credevo pensa se ci credo dove arrivo che cos'altro è possibile e lì scatta però tutto un altro meccanismo dove poi se ti senti troppo invincibile e non va bene quindi bisogna avere almeno io ho questa mia teoria la paura devi averla la paura ti dice dove il limite poi tu con la razionalità con allenamento con tutto quanto superi quel limite però poi ci deve essere comunque tra virgolette cioè devi capire quando effettivamente non c'è il punto di ritorno e ci sono dei momenti in cui c'è un punto di non ritorno se vai là è perché sei un kamikaze c'è un passaggio del faust che recita così io rischio tutto quel che può rischiare un uomo chi rischia di più non è un uomo esatto capire la misura capire qual è il limite io su questo punto e la comunicazione voglio chiederti anche qualcosa di molto terra terra qual è il linguaggio con cui comunicano i surfisti come ci si riconosce c'è un codice che magari può essere verbale o non verbale con cui vi riconoscete tra di voi sì sì beh questi ultimi anni sicuramente hey bro hey bro che sarebbe per brother hey bro è forte ma poi c'è anche il classico simbolo lo sciacca che si fa con la mano quindi siccome questo è un podcast e la gente si ascolta è pollice mignolo che uscillano e ballano tra di loro ronaldino lo faceva quando segnava e faceva lo sciacca ma è ronaldino perché è brasiliano il surf è il secondo sport praticamente ormai diventato dopo il calcio quindi veramente lo praticano in tanti e come ronaldino anche tanti altri giocatori hanno un sacco di connessioni con la spiaggia con i surfisti conoscono tanti surfisti anche campioni del mondo insomma comunque sì e noi comuniciamo in questo modo è molto tra virgolette molto figo il fatto di di parlare un po la stessa lingua che poi ovviamente funziona tutto il mondo no cioè lo sciacca questo questo fare la mano appunto a forma di telefono così è riconosciuto in tutto il mondo viene dalla guai no come come si ma ma dove comincia l'appropriazione culturale cioè se io che non ho mai surfato faccio questo gesto in quel contesto mi picchiano o mi dicono ok forse potrebbe essere uno vicino a noi cioè quando si può fare perché tu dicevi prima ei bro questo ei bro è arrivato nel linguaggio comune dei ragazzini a riprova di come il surf dalla nicchia sta diventando sempre più un mainstream ma quando diventa appropriazione indebita di slang e di codici da secondo me lì è una questione di come uno si presenta come uno dice i tempi tutto cioè si capisce subito se uno è un poser diciamo è un poster o che ne so il surfista della domenica il nerd della situazione oppure un pro surfer un pro surfer lo sgami subito più o meno cioè lo si vede come anche appunto vedi uno che è un beginner tra di noi ci sono delle delle cose che non sono scritte ma insomma si capisce subito quando uno ci capisce quando uno comunque bazzica la scena 24 ore al giorno ci abbividi esclusivamente di surf ti nutri di surf piuttosto che uno che pratica il surf magari ecco una volta a settimana ma guarda a riprova di quanto noi in questo podcast ricerchiamo l'universale dallo specifico del surf noi che produciamo podcast tutti i giorni riconosciamo subito quando il manager con cui interagiamo il cliente con cui interagiamo o il nostro collega mastica di podcast ascolta podcast e pensa alla realtà sempre in chiave narrativa per trasferirla a qualcun altro e chi invece naviga un po la tendenza ma è il primo a non crederci e a riprova che tutto questo rappresenta un fenomeno antropologico più che sportivo specifico quindi praticamente tu in questo momento mi stai vedendo come io quando vedo un beginner tu mi stai vedendo come un poser un nerd che di podcast attenzione qui vedo grande competenza specifica che non ha bisogno di competenze di podcasting per trasmettere il proprio valore semmai io mi sento inadeguato nella missione di riuscire a dare un ritratto di alessandro che corrisponda alla grandezza dell'atleta dell'uomo dell'essere umano di cui io personalmente e intellettualmente mi sono innamorato io dico questo ci sono i kpi quindi sono degli obiettivi dei marcatori di performance io credo fermamente che questo podcast sarà stato successo se nell'arco di un anno da questa conversazione tu ti leggi un libro di filosofia e io salgo su una tavola prima volta quel punto è fatta io ho convinto te tu hai convinto me dottor podcast